Anno nuovo, luco vecchio, finisce infatti in gloria il match odierno per i ragazzi di Giannini, impegnati in un incontro non impossibile contro un tossicida che comunque, all'andata, fu capace di frenare le velleità angiziane. Padroni di casa pieni zeppi di assenze di peso, come quelle di Margaiotti, Ciavrini e Briciu, in ordine spazio, ma tale da rendere pienamente l'idea delle insidie odierne che si palesano in men che non si dica. Infatti già al terzo gli ospiti decollano con Mosca che vola sopra le teste dei luchesi e deposita centralmente un cuoio non impossibile da neutralizzare, ma tant'è. 0 a 1 e si riparte. A scuotere i suoi ci prova per primo Cinquegrana che al settimo calcia dalla distanza e trova Bartolomei che blocca a terra. Nulla di fatto, ma appuntamento con il pari rinviato di pochissimo. Siamo al nono quando il giovane pace viene sgambettato in maniera plateale. È il rigore. Sul dischetto si porta l'esperto Moro che non perdona e spiazza l'incolpevole Bartolomei. Partita ricca di spunti ed elettrizzante. Al tredicesimo, per esempio, Cinquegrana, in costante crescita, prova a metterci un po' di pepe tentando da distanze siderali. Cuoio che decolla, appena sopra la trasversale però. Luco in rampa di lancio. Non proprio perché al quattordicesimo sull'aereo luchese si abbatte un fastidioso razzo fatto in casa. Il classico fuoco amico assume le sembianze di Borcea che in bello stile non ti va a sbagliare porta. Scoramento al comunale che dura pochi secondi perché al quarto d'ora possiamo già esultare per il nuovo pari e l'ennesima marcatura di giornata. Taglio illuminato per Di Virgilio che tutto solo angola bene e non perdona. Due a due, fuochi pirotecnici in campo anche se con l'andar dei minuti la storia del match sarà via via meno densa di capitoli. Ma procediamo per ordine. Diciottesimo, punizione di venditi, raggiunge Moro sul secondo palo, il Colle Longhese calcia di volo ma trova solamente la parte esterna della rete. Ventiduesimo, all'improvviso un pallone sconosciuto fra i viedi di Di Virgilio che fra lo spaventato e lo spaisato non sa approfittare della preziosa sfera. Si profila forse una sequela di azioni, penserete, invece la sortita successiva arriva addirittura al venticinquesimo del secondo tempo, quando gli angiziani si rimettono in marcia alla caccia del Tris da tre punti. Di Virgilio è sempre solo soletto ma questa volta un po' troppo decentrato e non può far di meglio che depositare sulla faccia meno ambita della rete. Appena un minutino poi lo stesso di Virgilio viene colpito in pieno all'interno dell'area. L'adviso così fischia la seconda massima punizione della giornata e lo stesso di Virgilio dal dischetto non perdona portando avanti i suoi. Luco ora in scioltezza finalmente alla ricerca del poker che arriva dopo cinque minuti quando il solito propositivo di Virgilio si accentra e calcia una traiettoria insidiosa che trova la deviazione letale della difesa ospite. 4 a 2 e 3 punti in cassaforte. Nei restanti minuti c'è modo di vedere ancora questa ennesima sortita offensiva di un inarrestabile di Virgilio che questa volta però è troppo tenero con l'estremo ospite e lo grazia. Finisce qui. Per i luchesi riprende così la rincorsa alla vetta. Invece gli ospiti continueranno ad avere ben altre esigenze. Invece gli ospiti.